Tutto cominciò nel bar del mio amico Erboione E chi? Erboione, un mio amico carissimo, una persona molto per bene che gestisce un localino in via del Mandrione Un localino, come gli posso dire, all'inglese, nel quale si gioca fra amici, ecco I soliti amici con i quali si gioca da sempre Erchiodo Busso Lameio Gentiluomo vero Erchiavica E motte sistemo io E Dulcis, in fondo, Romolo Picchioni Detto sgaramutante Tutta gente molto rispettabile, signor giudice Mi credo Ma quando giochi Enurum Scusi, se Volo Quando fecero il loro ingresso gli agenti Lomarzio e Lopane della Securpol Gente molto distinta Poi mi codico io, basta guardar Però ogni tanto sono un po' fanatici Io e il collega avemo beccato due super patonzolone Negri Che vi saranno venuti a civilizzare Ehm Ehm Grazie.